Ciao a tutti ragazzi, bentornati, buon proseguimento di serata, no scherzo, sono le ore di pomeriggio Ho appena finito di rimangiare, rieccomi, scusate per la pausa, per la lunga pausa e le lunghe canzoni Però è registrato, bene, bene, cominciamo, continuiamo, ho appena trovato il meteorite Cazzo di cose mi girano intorno, quasi finito Allora svuotiamo l'Inventair, vediamo che l'hanno trovato, allora questa cosa chi, l'hi lasciamo chi Dobbiamo ingrandire le ceste ragazzi, mi sa tanto, via la lana Guardate quanta roba che abbiamo trovato strana, che adesso vediamo a che serve Tranquilli ragazzi, tranquilli, chi non va tranquillo non è tranquillo Via i binari, mettiamo giù un blocco giusto per Via questa roba che adesso vediamo tutto a che serve Perché il shine helmet ce l'ho qua? Acqua affinity protection 1 Cioè ho rubato un caschetto potenziato a qualcuno ragazzi, a qualche scheletro Manco me ne ero accorto Che fighetta Dove ho tutte le armature? Qua poi dobbiamo fare una cosa solo di armature, spade, eccetera Ok, poi Vi faccio vedere un'altra fighetta Perché se io vado qua per esempio, no? Facciamo un esempio Vado qua e noi abbiamo i miners I miners Tasto shift più tasto destro Voilà Vedete che è ancora tutto qua Se noi però tasto destro facciamo così in giù, con la freccia in giù Facciamo shift e tasto destro sulla cesta Vedete che è sparito tutto Perché è andato a finire tutto automaticamente nella cestica Non lo sapevate questo voi Allora, silver, facciamo così Mettiamo a cuocere tutto Ok Per cui rimettiamo in su Voilà Poi abbiamo anche l'altra piena, vedete, è questa qua Facciamo tasto destro qua in giù Voilà E togliamo la flint La mettiamo a posto Ok Perfetto Allora, vediamo un po' che abbiamo true Che era bian true Allora, questi qua ne abbiamo solamente sette Per cui aspetterei prima di usarli Questi qua Gli alluminium Premiamo la U Vediamo a che servono Fanno gli alluminium nuggets Nuggets No Liquid aluminium Vabbè Abbiamo capito Questo qua è il tin Farà il tin Perfetto E poi fai il liquid tin Ok Vediamo a che siamo tutti quelli liquidi poi Poi qua abbiamo l'altro pezzo di armatura Dello steel E la spada steel Allora, io direi di fare, ragazzi Per forza Per foggia Direi di Allora, prima di tutto raccogliamo questa roba Che non va qui Voilà Ma va Bensì qui Oh Però abbiamo trovato Due emerald Due emeraldi Dove è il ferro? Non abbiamo più ferro Azzotto E poi qua Dovremmo avere la cesta Voilà Ce la farò Primo Poi ce la farò Da solo Ok La cesta La metterei qua Per il momento E ci metterei dentro tutte le armature strane Cagate varie Così liberiamo anche un po' qui Eeeh Caschetto Basta 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 Ok amico Ok amico Però qua dovrebbe avere anche una pala Voilà Voilà Ok Allora Qui dovremmo fare Poi Eh l'avete sentito vero? Meteorite Meteorite E' notte Puccagna Va sempre notte Quando vengono i meteoriti Ragazzi 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 Ma adesso questo coso Detector Mi segnala i meteoriti di prima però O quello nuovo Vediamo Mi indica No mi segnala quello nuovo Mi indica di là Stavolta voglio arrivare in tempo Puttagna cagna Dai che mi si raffredda Speriamo che un altro di quelli bianchi E speriamo che non è a 800 miliardi di chilometri anche Mi segna di là Eeeh Oh non rompete Non posso arrivare tardi all'appuntamento Allora questo è quello di ieri Ok No mi segnala ancora più là Eh il jetpack ragazzi lo so Ma prima di fare il jetpack Devo fare anche Come caricarlo Batpack Eeeh Il Batbox ecc Dobbiamo usare l'industria e il craft ragazzi Dai mi sono perso nelle foglie Dove cacchi è caduto sto coso? Da qua non vedo nulla Oh cazzo E' lì in fondo No eh Ma perché cadono così lontani? Cioè non voglio che mi cada sulla testa della casa eh Però Neanche così lontani Mi segna di là Usa la creative per andarci Sì Volete? 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 Vabbè alla fine ragazzi Usare la creative per andare a vedere il meteorite Non è neanche poi di tanto un cheat Anzi E' un aiuto perché arriviamo quando il meteorite è ancora caldo Però mi segnala qua sopra ragazzi Siamo arrivati Dovremmo essere arrivati Dovremmo essere arrivati perché mi segnala proprio qua sopra Ora uccido il cane tranquilli eh Nessun problem Eccolo lì Eccolo lì Vedo fuoco Vedo fuoco Quello rosso Quello rosso Quello rosso Dai Eccolo di ieri rosso ragazzi Però io non voglio questi rossi Voglio gli altri rossi Che poi stanno diventando cobblestone Dai Scusatemi Ossidiana Veloce Dai che mi diventa un'ossidiana L'ho detto che l'avvicino Cos'è 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 Vaffanculo Mi l'ho dimenticato che uscivano i blades C'ho il cane che sta litigando con un pupazzo ragazzi Pensate quanto è deficiente Mi l'ho dimenticato che uscivano i blades da qua Dai Stanno diventando ossidiana Io ho paura che esca un altro blade Devo mangiare Devo mangiare Adesso lo piccio il cane ragazzi Non sto scherzando Tranquilli due minuti e vado Vi lo faccio ingoiare il pupazzo Cane rincoglionito Dai perché non mi dai un pezzo di quello rosso rosso che serve a me Perché dicomi No il blade Sta crepandolo Guarda che pierda Ha crepato da solo ragazzi Ha crepato da solo Era bello grosso sto meteorite però Devo dire Dai è quasi finito Comunque ha fatto la lava sotto Orca loggia Bisogna fare attenzione O c'era già la lava Sì sì ragazzi tranquilli L'ho vista la lava L'ho vista Perché ho delle palline che mi girano intorno Fini Finito No ce n'è un altro Ok finito Quanti ne abbiamo raccolti Ben 61 Ben 61 Ma ce n'è ancora però Vedo Basta Quasi uno stack Con questo meteorite ragazzi Siamo arrivati in tempolo Ora abbiamo tornato a casa però La casa dov'è Casa di là 440 57 mila metri Perfect Ce la farò No Ti pareva Con questi meteoriti rossi Non mi ricordo che si faceva sinceramente U Armatura Armatura è una spada Figlio di tua madre Via 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 Ah qua c'è il pozzo Quello avvelenato La melma La merda Cos'è Allora io per andare a casa Dovrei rifarmi tutto Il lago qua Ma stiamo scherzando con le pannocchie Però ragazzi Già che sono qua Io raccoglierei un po' di clay Perché sapete che mi serviva Così ne approfittiamo Facciamo un viaggio unico Ah mi serviva anche la sabbia Pensandoci bene Eh Andiamo a finire il pavimento Ok Qua c'è l'altra clay Oh quanta Cos'è Non vedo Cobblestone Stone Qualcosa di simile Siamo a Ah mi sta mettendo tutto qua dentro Volete dire Yes Yes Dai almeno un 4 stack Nooo Ho finito la pala Fanculo Andiamo a casa Fanculo Andiamo a casa Non mi ero accorto Che stava finendo Ragazzi io arrivo subito Metto un attimo Due secondi di musica Arrivo subito Scusatemi eh Ok Rosica 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 rosica, 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 bimbo vinca, bimbo vinca, bimbo vinca, bimbo vinca, così si fa, così si fa, con grinta, c'è un bimbo vinca potuto, potuto, tropezzo di merda, bimbo vinca, 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 b Grazie a tutti.